Musica 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 e camminando per continuare cose e cose tipiche che sono costretti e cercheranno di questo e di quello e di te racconta che avessi un pernello per la corrente e per la favolente consumo di meno prodiguale sa che il petrolio è un duro all'inferno ma per non scendere fino all'inferno basta una buca non vuoto profondo ci metti una sonda che ti aiuterà se il muro diventa solare cosa che interessa vuole spagliare ne gente stFrom vare, non è da pianificare ma per tutto il cuore è tutto il cuore è tutto il mio mi sterile al mio mentre ci saranno mi sterile al mio che avessi un vizzo mi riesci un pezzo ma per non c'era e la mano che però grazie bimbi siamo arrivati alla fine quindi vi ringrazio e diamo un buon ritro nelle vostre la terra non c'è stata regalata la terra non c'è stata donata dai nostri figli la terra non c'è stata data in regalo ma in prestito dai nostri figli bravo papà grazie e buon rientro a tutti